Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla statale 62 della Cisa restringimenti di carreggiata per lavori all'altezza di Villa Franca in Lunigiana in direzione nord. Ricordiamo che per la giornata di oggi è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per gli aeroporti di Firenze e Pisa. A causa dello sciopero potranno verificarsi modifiche alla normale attività operativa dei due scali. Chiudiamo con il traffico ferroviario. Ricordiamo che per la giornata di oggi sono chiuse al pubblico le biglietterie di Montecatini Centro, Castelfiorentino e Cerdaldo. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!